In questo video vi mostro come resettare l'assistente vocale Google Nest Mini. Il primo passo è quello di disattivare il microfono e sapete già che si fa qui. Il microfono è disattivato. Secondo passo, tenete premuto al centro. Stai per resettare completamente questo dispositivo. Rilascia per annullare l'operazione. Adesso potete anche togliere il dito. Attendete il tempo dovuto. Vedete i led come lampeggiano. E come avete sentito anche dall'assistente, non ci resta che continuare a impostare il dispositivo tramite l'app. Se avete apprezzato questo tutorial vi invito a iscrivervi al canale e a lasciare un bel like. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!